Vi ricordate del padre di Tommy? Vi ricordate del caso di Erba, il primo indagato che fu? Ecco che non si ripeta a Catania la stessa cosa e guardate che quando gli inquirenti sbagliano una mano ce la mettono anche i giornalisti. Ora voi ve ne andate in via Ventimiglia, ve ne andate in piazza Giovanni Verga, vi fate dire il nome e il cognome che io so e che non vi dirò e ve ne andate a sentire gli altri indagati. Non fate qui la curiosità da Novella 2000 o da Grand Hotel, dove è, dove non è, ve lo sta dicendo l'avvocato Libera e la dottoressa Antonella Milana. E' un fiume in piena, Giuseppe Libera nel corso della conferenza stampa indetta nel proprio studio, l'avvocato che difende Angelo Fabio Matà ne ha per tutti e decide di raccontare la verità dal proprio punto di osservazione sull'omicidio a Velardi. Si parte dagli indagati che sono tre, oltre al figlio della vittima, altri due uomini di cui il legale decide di rivelare solo le iniziali M.M. di 75 anni e D.A. di 37, entrambi uomini non collegati fra di loro, conosciuti dalla famiglia Matà, perché a loro volta frequentatori del cimitero, lì dove Concetta Maria Velardi è stata barbaramente assassinata. Ma per lì però potrebbero essere tutti innocenti ed è qui che l'avvocato tira fuori il vero asso nella manica. A suo dire sarebbe coinvolto un'altra persona. La dichiarazione viene supportata da fotografie che mostrano graffi sulla schiena della vittima. Graffi causati da unghie affilati, elemento questo che farebbe pensare che l'aggressore, e quindi l'assassino, potrebbe essere una donna, forse aiutata da un complice. Il dettaglio non è cosa da poco. Per questa ragione stamattina è stata chiesta la riesumazione della salma. In quei segni sulla schiena potrebbe essere nascosta la soluzione del giallo del cimitero di Catania.